Era il 12 agosto 1992. C'era una grandissima festa di compleanno di un amico. Noi andammo a questa festa con Renata, con il suo panzone. Andavamo a questa festa e Renata con tutte le sue cugine, tutte le sue amiche e ballò tutta la notte. La festa durò fino alle 5 del mattino. Alle 5 e mezza stavamo tornando a casa ma Renata disse penso che sia meglio che andiamo direttamente in ospedale. Quando arrivammo il bambino era già praticamente fuori. Il parto più veloce che io abbia mai visto perché avevi una gran voglia di venire al mondo e di portare al mondo il tuo messaggio di amore, di pace, di speranza e di musica come sei riuscito a fare e come stai facendo bellissimo ancora adesso che hai 30 anni. Tanti auguri Peppino. Tanti auguri da papà.